La leggenda del panettone. È un giorno di festa, stanno per giungere numerosi invitati e tutto è pronto per ricevere gli ospiti. Nelle cucine c'è un grande andiervieni di cuochi, sguatteri e palletti. Il pranzo ha inizio. Sulle tavole, sontuosamente imbandite, vengono servite le prime portate. Carne alloschite, cacciagione, pollame, pasticci carichi di spezie. Il tutto tra canti, risa, musiche, esibizione di giocotieri. Nelle cucine intanto il capo cuoco sta vivendo un piccolo dramma. Il dolce, preparato con infinita cura, è riuscito male e se ne sta affrosciato su un grosso vassoio d'argento. Nessuno sa come rimediare al misfatto. Solo uno sguattero. Di nome Tony non si perde d'animo e imbocca le maniche e impasta in fretta e furia in un grosso recipiente un pane a base di farina, lievito, uova, burro, zucchero, frutta candita e spezie. Quando già sta per infornare il pane scopre un barattolo pieno di uvetta e aggiunge anche quella all'impasto. Mentre nelle sale vengono serviti gli ultimi piatti, il pane nel forno lievita, lievita, prende un bel colore dorato e diffonde intorno un delizioso profumo. Viene l'ora di servire il dolce. Lo sguattero, nascosto dietro un tendaggio, spia con ansia con mensali. Dietro di lui, ancora più preoccupato, sta il capovuovo. Se il dolce non avrà successo, le conseguenze saranno disastrose. Ma il successo è unanimo. I commensali chiedono a gran voce al padrone di casa di conoscere l'autore di quello straordinario grosso pane, che mai nessuno prima ha gustato. Lo sguattero, intimidito e confuso, viene sospinto nella sala e accolto con batti mani. Qual è il tuo nome? gli chiede Ludovico in moro. Mi chiamo Tony, risponde il canzone a rossendo. Nella confusione generale si sente distintamente una voce. Chiameremo questo dolce il palo del Tony. E con questo nome, il panettone, il dolce ha fatto il giro del mondo.